Musica Ubriaco scappa con l'auto dal posto di blocco e poi si ribalta. Un ventenne non si ferma e rischia di investire un agente della polizia. Partite le ricerche, rintracciato dai carabinieri ha fermato la sua corsa accartocciando l'auto. È risultato positivo all'alcol test? Denunciato. Papi, ecco perché ho deciso di creare la vera vela. L'ex sindaco di Porto Azzurro spiega all'edicola elbana, in questa lista ho messo nome e faccia, ma non vedo risultati. Facciano da soli. Giovedì Papi ufficializzerà il suo nuovo gruppo in consiglio comunale. Fondazione alla Presidenza ha confermato Marco Mantovani alla Vicepresidenza, eletti Luca Bartolini e Paolo Di Tursi. Approvati due progetti ambientali, uno in campo sociale, due in quello sanitario e lo studio di un convegno sul tema dei trasporti. Scuola. Cosa sta facendo il comune per la mancanza di aule? Emergenza sedi. Il gruppo Cosetta Sindaco interpella Ferrari per sapere se ha coinvolto gli altri comuni e se ha sollecitato la provincia sulla situazione dei licei e del professionale di Concia di Terra. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Questa sera partiamo con la cronaca. Un ubriaco è scappato con la sua auto da un posto di blocco e poi si è ribaltato. Si tratta di un ventenne che proseguendo la corsa ha rischiato anche di investire un agente della polizia. Partite le ricerche, poi è stato rintracciato dai carabinieri e comunque la sua corsa è stata fermata da un incidente che ha avuto con l'auto. È risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato. Aveva probabilmente concluso da poco la lunga serata e alle primissime luci dell'alba con due amici. Si trovava in auto quando una pattuglia della polizia stradale durante un controllo approcchio nel comune di Marciana gli ha intimato di fermarsi. Il ragazzo, un ventenne della provincia di Firenze a bordo della sua utilitaria, sembrava si fermasse, poi però è ripartito velocemente rischiando di travolgere uno degli agenti. Immediatamente sono scattate le ricerche congiunte di polizia e carabinieri. L'auto è stata ritrovata alla pila nel comune di Camponell'Elba da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Marciana Marina che ha tentato di raggiungere i fuggitivi per effettuarne il controllo. Alla vista dei militari però i tre giovani hanno accelerato per non farsi fermare. La velocità raggiunta e presumibilmente i riflessi rallentati, la tensione e le condizioni psicofisiche non ottimali hanno fatto perdere il controllo della vettura al guidatore che, toccato un ostacolo fisso della strada, ha terminato la sua corsa ribaltandosi ed uscendo dalla sede stradale dopo aver danneggiato due mezzi in sosta. Terribile l'urto con l'auto che si è accartocciata facendo esplodere gli airbag. I successivi controlli sanitari hanno evidenziato che il conducente era sotto effetto di cannabinoidi e aveva un tasso alcolico triplo rispetto al quantitativo consentito. Tra l'altro il caso specifico riguarda un cosiddetto neopatentato per cui la tolleranza è stata nulla. Conducente e passeggeri sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale portoferraiese. Meglio di tutti è andata al passeggero posteriore, un 19enne lombardo, otto giorni di prognosi per danni al collo. Ad avere la peggio è stato invece quello anteriore, un ventenne longonese che ha riportato l'amputazione di una falange distale di un dito della mano destra. Se la dovrebbe cavare in 20 giorni, così come il guidatore per cui è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Livorno per guida sotto l'influenza dell'alcol. Ed in stato d'alterazione per uso di sostanze stupefacenti, oltre ovviamente alle dovute segnalazioni alla Prefettura per tutti i provvedimenti del caso sulla patente di guida. Contravenzione dalla polistrada al giovane conducente per la velocità non commisurata e il mancato arresto al momento dell'alta. Andiamo ora a Porto Azzurro. Maurizio Papi spiega perché ha deciso di creare il gruppo La Vera Vela. L'ex sindaco lo ha spiegato all'edicola Elbana Show e dice in questa lista, nella lista della vela che aveva portato alla vittoria l'attuale sindaco di Porto Azzurro, Luca Simoni, in questa lista dice ho messo il nome, la faccia, ma non vedo risultati, quindi è bene che facciano da soli. Giovedì intanto l'ex sindaco di Porto Azzurro ufficializzerà il suo nuovo gruppo all'interno dell'Assemblea del Consiglio Comunale. L'ex sindaco di Porto Azzurro Maurizio Papi finalmente si espone e spiega perché si è staccato dal gruppo della vela che aveva sostenuto la candidatura dell'attuale sindaco Luca Simoni e lo fa ai microfoni dell'edicola Elbana Show del 2 agosto rispondendo alla domanda di Federico Reggini sulle motivazioni che hanno portato alla nascita del nuovo gruppo, La Vera Vela. Ho messo il mio nome, ha detto Papi rispondendo all'edicola Elbana, la mia faccia e ho dato credito a questa lista, ma oggi non vedo i risultati, quindi facciano da soli. Vi proponiamo alcuni stralci delle dichiarazioni rilasciate dall'ex sindaco, anche in prospettiva del Consiglio Comunale di giovedì 7 agosto nel corso del quale Papi ufficializzerà il suo nuovo gruppo. C'è soltanto la volontà, il tentativo, e deve essere assolutamente interpretata in questo modo, la vera vera, di essere fedeli a quelli che sono stati i principi ispiratori iniziali della nascita della lista del 2012, che non sono quelli di ora. ne faccia. Il mio credito, lo spesso per questa lista, voglio che certi obiettivi vengano raggiunti, che certi comportamenti vengano seguiti. Per cui, se invece ci si comporta diversamente, in modo che non è finalizzato sempre secondo me alla qualificazione del Paese, io non sono disposto a essere coinvolto in queste situazioni. Io mi sono reso disponibile, e ripeto, a spendere il mio credito, a essere coinvolto in queste situazioni, con un progetto vero e proprio. Se questo progetto non viene realizzato, non viene seguito, che poi gira e rigira, è semplicemente il progetto della qualificazione, noi lo stiamo chiedendo loro. Poi si dirà il dissesto finanziario, se il Stato Finale, noi possiamo ragionare quanto se ne vuole. Tutti sanno come sono una vita, almeno. Chi fa parte della vita amministrativa, sa benissimo come sono andate le cose, le situazioni. E sa benissimo che io, né io né la Giunta, hanno nessuna responsabilità in tutto questo. Ho portato il mio credito, guadagnato in 20 anni, ritengo di corretta e proficua amministrazione, l'ho portato a questa Giunta, a questa lista, per ottenere certe cose. Queste cose non le stiamo ottenendo, quindi non sono più disponibili ad essere assimilato e coinvolto in certe scelte. Sono disponibili a collaborare con questa Giunta, a certe condizioni. Se vogliono che ci sia il mio nome, non voglio né metterli in crisi, non voglio né far cadere l'amministrazione e non ho nessuna verità di tornare a fare il Sindaco, nel modo piaciuto. Per me questo mandato doveva essere nella mia testa, forse troppo per bene, doveva essere un modo di accompagnare, un passaggio, capito? La sermone di accompagnare un passaggio, seguendo certi criteri di qualificazione e di miglioramento. Questi non li vedo perché non li vedo e mi dicono signori, io non ci tocco. Prosegue il lavoro della Fondazione Isola d'Elba e il Consiglio di Amministrazione ha eletto il nuovo direttivo. Mantovani è stato confermato Presidente. Alla Vicepresidenza sono stati eletti Luca Bartolini e l'Avvocato di Tursi. Il primo Consiglio di Amministrazione infatti ha approvato due progetti in campo ambientale, due nel settore sanitario e anche uno studio di un convegno sul tema dei trasporti. Il 30 luglio si è riunito nella sede della Fondazione Isola d'Elba il primo Consiglio di Amministrazione nella sua completezza dopo la recente assemblea che ha provveduto all'elezione dei tre componenti di sua competenza. Il primo atto all'ordine del giorno portato a termine è stata la nomina del Presidente e dei due Vice. Nel segno di una sana continuità il Consiglio ha confermato alla Presidenza Marco Mantovani e ha nominato Luca Bartolini e Paolo Di Tursi Vicepresidenti. È stata quindi presentata al Consiglio un'ipotesi di piano di attività e sviluppo sulla quale si è sviluppata un'attenta discussione fra i presenti, che si è conclusa con l'impegno di un approfondimento dei temi nel prossimo Consiglio dedicando una particolare attenzione ai budget finanziari. Come terzo punto sono stati esaminati gli interessanti progetti che le commissioni competenti dopo l'approvazione hanno presentato al Consiglio tramite il coordinatore generale Paolo Ferruzzi. Salvo ulteriori valutazioni e verifiche di rito, sono stati approvati due progetti in campo ambientale, i giganti verdi ed i punti binocolo, un progetto in campo sociale, progetto alcol, due progetti in campo sanitario, apparecchio neopuffo per la rianimazione neonatale nel reparto di pediatria dell'ospedale, sponsorizzazione del convegno medico, aritmie cardiache, una ipotesi nel campo trasporti per lo studio di un futuro convegno sul tema specifico. Questi progetti proseguono perciò i loro iter verso la realizzazione sotto l'attento pilotaggio delle commissioni stesse. Altri progetti sono sotto esame per sponsorizzazioni dirette o indirette. I consiglieri hanno espresso il loro apprezzamento per l'attività dei componenti le commissioni che si è svolta in pieno volontariato e con uno in comune legame fra loro, l'amore per l'isola d'Elbe e la volontà di dedicare tempo e passione per fare azioni piccole o grandi che siano, che contribuiscono al miglioramento e allo sviluppo del territorio. Parliamo di scuola. Un'interpellanza del gruppo consigliare Cosetta Pellegrini, sindaco, chiede al sindaco Ferrari che cosa intende fare per la carenza delle aule per quanto riguarda gli istituti superiori. L'emergenza delle sedie ormai è sotto gli occhi di tutti e il gruppo vuole sapere se Ferrari ha sollecitato gli altri comuni e soprattutto la provincia per quanto riguarda la situazione dei licei e soprattutto quella del professionale di concia di terra che attualmente vede un intero piano inagibile a causa del crollo del tetto. I consiglieri del gruppo di minoranza di Portoferraio Cosetta Pellegrini, sindaco, interpellano il sindaco Mario Ferrari per sapere se si è intervenuto o intende intervenire presso il presidente della provincia per essere aggiornato sugli sviluppi della situazione sia della sede dei licei che di quella del professionale di concia di terra, come intende affrontare la questione relativa all'uso della sede di salita Napoleone e se intende offrire soluzioni alla mancanza di aule visto l'aumentato fabbisogno delle sezioni liceali. E se si sia attivato intende attivarsi per coinvolgere tutti i comuni elbani al fine di affrontare il problema della sede del liceo in ottica comprensoriale. Queste le richieste firmate da Cosetta Pellegrini, Alessandro Mazzei, Paolo Andreoli, Attonella Giuzio, considerando, dicono, la mozione sugli edifici che ospita nel liceo forese approvata dal Consiglio Comunale nel novembre 2013, che quest'anno le classi liceali risultano in aumento rispetto allo scorso anno, tenendo conto della criticità dell'edificio di concia di terra che la precedente amministrazione comunale ha operato in collaborazione con la provincia di Livorno, competente in materia, per affrontare e risolvere temporaneamente i problemi logistici, mettendo a disposizione con apposito protocollo d'intesa l'uso dei locali di salita a Napoleone, e che il termine per l'uso di detti locali è fissato al 31 agosto 2014. Rispetto a tale protocollo d'intesa, continuano i consiglieri, non è stata realizzata una sede alternativa. E, considerato, concludono, quanto riportato nel programma elettorale del sindaco, ci impegneremo con tutti i mezzi affinché sia realizzata la nuova sede dei licei quanto prima. Cecilia Pacini è il nuovo presidente di Italia Nostra. L'assemblea dell'associazione si è svolta domenica scorsa, a 3 agosto, nella cornice della Villa Romana delle Grotte. E' stato cambiato anche il nome della sezione, che da Isola d'Elba e Giglio diventa Italia Nostra, arcipelago toscano dopo aver assorbito anche il circolo di Capraia. Vediamo. Novità ai vertici di Italia Nostra. Cecilia Pacini è il nuovo presidente dell'associazione. Domenica 3 agosto, nella splendida cornice della Villa Romana delle Grotte a Portoferraio, si è tenuta la prevista assemblea dei soci della sezione Isola d'Elba e Giglio di Italia Nostra, ospiti dell'associazione Archeo Color. Erano presenti 45 persone, di cui 26 soci, 5 nuovi soci e 14 graditi ospiti, tra cui il vice sindaco di Portoferraio e assessore alla cultura Roberto Marini. I consulenti della gestione associata del turismo Paolo Ricotti e Andrea Rossi e il responsabile del gruppo A Itale, Franco Cambi. L'evento, articolato su due momenti, era aperto al pubblico nella prima parte dedicata alla visita guidata del sito archeologico da poco riaperto, mentre poi proseguiva con la presentazione delle attività e dei progetti in essere. Importante sottolineare una significativa novità, fanno sapere da Italia Nostra. Alla sezione è stato chiesto dal Consiglio regionale di assorbire la sezione Isola di Capraia. Ciò ha comportato un inevitabile cambio di nome in sezione Arcipelago Toscano. Decisione, tra l'altro, resa inderogabile dall'aumentare dei progetti che ci vedono coinvolti nelle altre isole dell'Arcipelago. Il programma è fine dopo un breve intervallo per un aperitivo gentilmente offerto dall'azienda agricola Righi. Si è concluso con l'elezione da parte dei soci intervenuti del nuovo Consiglio direttivo che vede come presidente onorario Gianfranco Vanagolli, presidente Cecilia Pacini, vicepresidente Federica Preziosi. Leonardo Preziosi ricoprirà la carica di segretario e tesoriere, Marcello Bargellini e il responsabile tecnico Costanza Pacini, responsabile della comunicazione. Ben ritrovato in studio e parliamo ora della programmazione del cinema di Portoferraio Nello Santi. Da stasera è in programma il film di animazione Il magico mondo di Ozz. Il film, stasera, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7, sarà trasmesso alle ore 21.30, sabato 9 agosto invece è in programmazione alle 18.30, mentre domenica 10 agosto torna alle 21.30. E cambiamo argomento e parliamo invece di Acqua dell'Elba che apre uno store nel cuore della capitale a Roma. Prossima apertura infatti della casa profumiera elbana che ha la sua sede a Marciana Marina è nella centralissima via Frattina. Se gli anni ormai si apprestano a diventare 15, i numeri dei negozi sono più alti. Parliamo di Acqua dell'Elba, il marchio di profumi nato all'Elba che dopo aver consolidato il progetto iniziale con 19 negozi monomarca sull'isola, prosegue l'espansione anche fuori dai confini erbani. E di oggi la notizia che presto ad affiancare i prestigiosi monomarca di Firenze, Siena, Como, Venezia e Lucca ci sarà anche un'apertura nella città per eccellenza, Roma. Probabilmente già entro l'estate Acqua dell'Elba inaugurerà il negozio nella capitale, nella prestigiosa e rinomata via Frattina, cuore pulsante della vita romana, una delle vie più conosciute del centro storico, via dello shopping internazionale. Acqua dell'Elba, che ha iniziato quasi 15 anni fa con un'impresa quasi impossibile, è presente oggi con i suoi profumi in 340 selezionate profumerie italiane. È passata da 3 a quasi 100 dipendenti in pochi anni ed è in continua crescita. Tutto grazie a un lavoro costante portato avanti con la passione che fin dall'inizio ha contraddistinto l'azienda. La passione artigiana che ha permesso di creare un prodotto di qualità in un luogo unico come l'isola d'Elba, una bottega ispirata a quelle toscane del Rinascimento con un valore aggiunto dato proprio dal territorio da cui trae ispirazione, un'isola che trasmette anche con il suo nome tradizione, storia e natura. Una soddisfazione importante e unica che Acqua dell'Elba vuole condividere con tutti i suoi amici e clienti affezionati, nonché con tutti coloro che amano l'isola d'Elba. Un'altra inaugurazione è stata all'isola d'Elba domenica scorsa, precisamente a Rio nell'Elba. È stata inaugurata la nuova gestione dell'Orto dei Semplici Elbano. Tutela e promozione della conoscenza della biodiversità è l'obiettivo del Comune di Rio nell'Elba e del Parco Nazionale dell'Arcipelago. Durante l'inaugurazione è stata presentata anche la pubblicazione L'Orto dei Semplici nell'eremo di Santa Caterina a Rio nell'Elba. Domenica 3 agosto a Rio nell'Elba è stato inaugurato il nuovo Orto dei Semplici con la presentazione della pubblicazione L'Orto dei Semplici nell'eremo di Santa Caterina a Rio nell'Elba a cura di Agostino Stefani e Stefano Camangi. Oggi l'Orto continua le sue attività grazie alla collaborazione fra il Comune di Rio nell'Elba e il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Un ruolo importante nella sistemazione delle piante lo ha avuto un privato cittadino, ex apicoltore, Roberto Ballini. Io sono venuto qui il 7 febbraio e quando ho messo gli occhi qui dentro ho visto che era tutto un disfaccio, in poche parole, però ho visto, diciamo, vedevo l'arrivo dove si poteva arrivare mettendoci un impegno e così è stato, cioè l'impegno mio quando sono venuto qui ho cercato di ribonificare, diciamo, l'ambiente, cioè di metterlo in condizione che sia accessibile e poterci venire. Ora il programma, quello che vedo che ci sarà da fare in futuro è proprio di mettere delle piante proprio, diciamo, con cartellini, con cose, insomma, che gli esperti penseranno appunto a mettere in opera. Io l'ho fatto volentieri perché vedo che è una cosa che per lei e per noi stessi, in poche parole, poi se è stato un privato non so se avrei fatto una cosa del genere. Sono contentissima perché finalmente passiamo dalle parole ai fatti, lo dico molto chiaramente e questo perché ci sono stati, voglio dire, aspetti molto positivi dell'accordo tra enti, ma oltre all'accordo tra enti, che questo, diciamo, può essere una cosa abbastanza, diciamo, speriamo frequente, la vera cosa importante è che ci sia una persona che, come padrone di casa, diciamo, come persona che fa gli onori di casa, ha veramente preso talmente a cuore questo luogo che l'ha trasformato. Io come naturalista sono molto contenta perché abbiamo discusso su come fare alcune sistemazioni, io ho portato dei semi, ma lui è in grado di far attecchiere le piante perché va bene tutto, ma la capacità e l'esperienza è la cosa principale. Per cui sono veramente molto contenta anche che oggi si parli di questo volume che trae, diciamo, alcuni spunti molto interessanti proprio sulle varietà locali e con il professor Stefani stiamo proprio continuando per fare in modo che questo orto si possa fare come una sorta di campo catalogo dove mettere a dimora queste piante e nel futuro proprio fare una ricognizione ancora più ampio respiro su tutta l'isola perché il lavoro che è stato fatto e che è stato messo sul libro è un primo punto. È importante perché rilancia e recupera i prodotti tipici della zona, è un grande lavoro, un lavoro che è iniziato da diversi anni e che è quindi meritorio in un momento in cui la valorizzazione delle biodiversità del territorio sono sempre più importanti, non solo all'Elba ma in ogni parte del mondo. Io credo che questo modo di interpretare questa cosa, con questo sforzo che è stato fatto qui a Rio nell'Elba, sia estremamente meritorio e degno di attenzione. Parliamo ora del premio Barbiellini e Amidei, il premio giornalistico la cui serata finale si è tenuta sabato sera nella splendida cornice della fortezza pisana a Marciana. Il premio è andato a Bucci, Borella e Bacci, tre giovani giornalisti, tutti al di sotto dei 35 anni, come prevede il regolamento del premio. La settima edizione di questo premio era all'insegna delle donne e infatti un giurato speciale per questa edizione è stata Dacia Maraini. Nel suggestivo scenario della fortezza pisana a Marciana si è svolta sabato scorso la settima edizione del premio giornalistico dedicato alla memoria e all'impegno giornalistico di Gaspari Barbiellini e Amidei. Insieme al sindaco Anna Bulgaresi e rappresentanti delle istituzioni dell'isola, giornalisti, uomini di politica e cultura, hanno partecipato alla cerimonia di consacrazione dei vincitori. Il premio è rivolto ai giovani sotto i 35 anni impegnati nella professione per incoraggiare un giornalismo libero e innovativo di qualità. Il tema di questa settima edizione era verde, bianco e rosa, l'Italia delle donne. Il giurato speciale per questa edizione 2014 è stata Dacia Maraini. Ad aprire la serata, presentata da Alfredo Macchi, Federico Barbiellini e Amidei del Comitato Promotore, per la sezione carta stampata e nuovi media, il premio è andato a Rino Bucci, 34 anni, per l'articolo L'Osteria del Coraggio, del Quotidiano, il Tirreno. Per la sezione radio e televisioni sono state premiate Cecilia Andrea Bacci, 25 anni, Alessandra Borella, 29 anni, per il servizio video Oltre la Grata, la clausura al mondo d'oggi, quattro colonne SGRT News della Scuola di Giornalismo e Radio Televisivo di Perugia. Ai vincitori, oltre a premio, è stata consegnata una targa che riproduce un'opera inedita di Pietro Consagra, intitolata Elba. Il premio Gaspare Barbiellini e Amidei, promosso dai familiari e i giovani amici del giornalista e scrittore scomparso, ha ricevuto l'alto patronato al Presidente della Repubblica. Nella giuria figurano nomi prestigiosi del giornalismo e della cultura. Erano presenti nella serata di Marciana Andrea Vianello, direttore di Rai 3, Caterina Soffici, giornalista e scrittrice, Giulia Cerasoli del settimanale Chi, Massimo Nave, editorialista da Parigi del Corriere della Sera e Gaia Pianigiani del The New York Times. E Marciana Marina anche quest'anno ha festeggiato la Notte Blu. Il Comune ha celebrato il secondo riconoscimento ambientale alla spiaggia della Fenicia. Sabato scorso il paese quindi si è trasformato con magiche atmosfere in blu e musica per tutti i gusti fino a Notte Fonda. Ancora un successo per la Notte Blu 2 a Marciana Marina. Anche quest'anno la manifestazione è stata organizzata per festeggiare la seconda bandiera blu conferita al Comune per la spiaggia della Fenicia. Tutto il paese ha partecipato all'evento dell'estate che ha visto tingersi di blu le strade, le piazze e la magica torre che sovrasta il molo. Atmosfere magiche accompagnate da musica per tutti i gusti fino a Notte Fonda. I festeggiamenti in blu sono stati organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale insieme alle attività e alle strutture recettive del paese e coordinati dalla locale Proloco. Quest'anno sono state sei le postazioni musicali in piazza della Vittoria Show degli Studio 1 con i favolosi anni 70-80-90 e poi Notte Latinoamericana con lo spettacolo e l'animazione di Salzando. Al moletto invece i più giovani hanno potuto scatenarsi con le musiche disco della star DJ Anna Lee e Andrea Pico e ancora con DJ François Lepetit. L'aperitivo in musical Capitanino dalle 19 con il trio delle meraviglie e ancora per i giovani al porto il DJ set curato dal Club 64. Non è mancata la sorpresa della magica atmosfera musicale nella zona del cotone. Con la seconda edizione della festa la Notte Blu si conferma uno degli appuntamenti fissi delle estati marinesi. È tutto anche per questa edizione del nostro giornale. Vi ringraziamo per averci seguito e a tutti auguriamo una buona serata. Grazie a tutti.